Guardate che bella giornatina che c'è a Torino, sono in zona stazione Porta Susa, sto per andare a prendere il treno e tornare a casa ma prima vi voglio portare la live reaction a tutto quello che è accaduto ieri sera in occasione di Juventus-Monsa 2-0, ultima partita del campionato, divertente Prima di iniziare il video come al solito ti ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e lasciare un commento Buona visione vecchio cuore bianconero, ho visto che vi piace questo saluto, quindi lo uso Quanto è bello questo uomo, quanto è sexy questo uomo Facci la rappelata È un gentleman, ce l'ha scritto sulla maglia Beh, è proprio tuè, guarda, è uno simolo sta maglia rispetto a quel che sono detto Stavo entrando e un ragazzo mi ha salutato e mi ha detto ciao Colpo Ci sta, io e Lello siamo molto simili, ci avrà confuso per il taglio di capelli probabilmente Il mio crociato mi impedisce di fare questa cosa ma l'avrei fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Veramente poco da qua Veramente poco Vedo la porta Ci arriviamo in qualche modo Con il pressing Ci arriviamo? Sì! Sì! Buona riaggressione della Juve Con Pagioli Pagioli! Stiamo riaggredendo Stiamo pressando alto Bene così Bravo a Juventus Bravi Sì! Bravo Daniele Go! Non ci posso credere Sulla linea gliela ha presa Sulla linea Grazie a tutti Grazie a tutti Viene, Alessandro. Forse Alessandro. Credo Alessandro davvero. Alessandro! 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 Alessandro, due a zero! Hai capito, Montero? Hai capito, Montero? Ma cosa ho fischiato? Non ci posso credere. Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Cosa? Bravo, Alessandro. Il migliore in campo, Alessandro. Il migliore in campo, Alessandro. Fine primo tempo, Juventus in vantaggio di due gol. E che rinforchiose, Alessandro. Il migliore in campo, Alessandro. Bravi ragazzi! Mamma mia, che servizio! Grazie mille! Salute! Sì, ragazzi. Sì, in realtà c'è stato male, Luca. Forse all'Uber. Mi hanno regalato la prima birra, fine primo tempo. Regalo migliore del mondo. In pallo, Pisoglio! Pisoglio! Caro Pisoglio! Mamma mia, cosa fa Kenan il disc? Bravo, Fede! Bravo, Fede! Bravo, Fede, casco! Bravo! Come sempre, Issto. Come al solito. Farà la coincidenza, sempre lui. Sempre lui. L'anno scorso Fusecchiare Maria, quest'anno Fusecchiare Indis, questo è sempre quello. Cosa cazzo gli ha preso? Cosa gli ha preso? Ha fischiato pallo contro, ha fischiato pallo contro, ha fischiato pallo contro, sta per entrare Thiago Jalot, Thiago Jalot. L'altro Pinsoglio farà più minuti di Thiago Jalot in stagione, questo è tutto meraviglioso. Fischiato pallo contro, ha fischiato pallo contro, ha fischiato pallo contro. Bellissimo! Dimissiato calle... Ma cosa fatti Anko Jalou? Ma cosa fatti? Ma dove fatti? Ma dove fatti? Ale! Ale! No! Cos'è il gioco fermo? Palo! Cos'è il terzo palo di Miriti una settimana? E' rigorissimo! E' rigorissimo! Pinsoglio lo parava questo! Daglielo così lo para Pinsoglio! 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 Datelo! Date sto rigore! No! Volevo Pinsoglio che lo parava! Volevo Pinsoglio! Volevo Pinsoglio! C'hai rubato un sogno! Pinsoglio che para il rigore! Volevo Pinsoglio e ce la ruba! Volevo Pinsoglio e ce la ruba! No, no, no. Come si può rivedere? La firmi anche a me. Quale preferisci qua? Lì, qua è quella della vara. Io tengo questa. Io tengo questa, che è la mia preferiscia. Vi hai tantissime. È stata una bella seata. Siete contento? Sì, certo. Buon lavoro, buona estate. Grazie a te. Ma a te ti ricordi? Conocemmo il nome? Sì. Eri piccolino. Sei crescendo. Paolo Montero! Paolo Montero! Paolo Montero! Paolo Montero! Paolo Montero! Paolo Montero! Bocca al lupo, mister! Danilo! Ian! Annblica! Chiick! Che pastora! Quare attrata, viene in una piatta. Napoleaisca.